Le 7 in punto, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di Omnibus. In primo piano sui giornali di oggi ancora l'orrore di quanto è stato scoperto a buccia di quello che i russi si sono lasciati alle spalle dopo la loro ritirata, quella che di fatto è stata una ritirata, tant'è che adesso si stanno riorganizzando per concentrarsi sulla parte sud-est dell'Ucraina. Un orrore del quale purtroppo emergono con il passare delle ore sempre nuovi dettagli e particolari, fosse comuni e camere di tortura. Ieri il presidente ucraino Zelensky è stato in questo centro che si trova a pochi chilometri da Kiev, ha visitato l'ospedale, ha parlato con la gente, oggi Zelensky parlerà anche al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Naturalmente c'è la reazione a livello internazionale con Biden che sottolinea va processato Putin, vedete avevo ragione, poi le questioni che riguardano nuove sanzioni che saranno in arrivo nei confronti della Russia e a questo punto si parla anche di sanzioni che riguardano il comparto energetico, anche se su questo punto almeno in Unione Europea non c'è uniformità, vedremo appunto poi la situazione, come si svilupperà. Altra notizia importante che troviamo sui quotidiani di oggi è il fatto che la Corte di Cassazione ha confermato che quello di Stefano Cucchi fu un omicidio, ci sono due carabinieri condannati a 12 anni di carcere. Allora partiamo dal Corriere della Sera, vedete il titolo principale processate, il criminale Putin, Biden accusa Zelensky a bucia, macellai, le foto che svelano le bugie, Italia pronta a despeller diplomatici russi, un annuncio che è già stato fatto da altri paesi europei. Ci sono le fotografie, eccole qua, che raccontano di questa visita, ieri di Zelensky, vedete di queste terribili fosse comuni e poi le denunce dopo la liberazione di questo centro prigioniere ucraine, rasate, trattate come nei lager. Vi dicevo della sentenza della Cassazione, omicidio Cucchi con danni a 12 anni per due carabinieri. Apertura della Repubblica, altra foto molto dura, mattatoio Putin, fosse comuni, esecuzioni, camere di tortura stupria, bucia, si moltiplicano le testimonianze sulle brutalità degli invasori, Biden lo zarva processato per crimini di guerra, Lavrov che replica tutte invenzioni, la Russia insiste su questo punto e gli americani non hanno la coscienza pulita. nonostante atrocità e disfatte in Russia, il consenso per il Cremilino cresce all'83%, ci racconta la Repubblica. Qual è lo scenario che adesso si profila a Mosca, ci racconta la Repubblica, raduna altre forze per l'offensiva di Pasqua. La stampa, i martiri di bucia, ecco qui un'altra fotografia che ci racconta di questo orrore. Zelensky sui luoghi del dramma, condanna unanime, Biden promette sanzioni, Europa e Italia divise sullo stop al gas russo, pronto il DEF di guerra e poi giustizia per Cucchi condanna a 12 anni per i due carabinieri. Il messaggero, Europa divisa sul gas russo, veto tedesco e austriaco sul blocco del metano di Mosca, stop solo a petrolio e carbone. Draghi insiste per il tetto al prezzo nell'Unione Europea, espulsi 70 diplomatici da Berlino e da Parigi. Ancora il processo all'orrore con la commozione di Zelensky nella città della strage e Putin che insiste, Biden scusate che insiste, Putin deve finire alla sbarra. Ancora ci sono i servizi di approfondimento, la crisi energetica, l'Italia ha un piano la via africana e poi Mosca che prepara l'attacco al Donbass e poi ancora lo sciacallaggio russo rubate nelle case, anche lavatrici e televisioni. Apertura del sole 24 ore quotidiano economico, mutui più cari vola il tasso fisso, l'Euris che determina la data dei mutui fissi ha aumentato di oltre 40 punti, su di 10 punti anche il tasso variabile, garanzie a rischio per i giovani under 36. In taglio alto l'Unione Europea pronta a sanzioni su carbone e petrolio russo e ancora si parla di brevetti, itali in recupero più 6,5% con trasporti e sanità. E ancora fisco, sanzioni leggere per gli errori formali, IRPEF meno sconti fiscali. Vediamo anche l'apertura del fatto quotidiano, eccolo qui. Orrore, basta gas russo, anzi no. Poi vediamo stragi e affari, l'Unione Europea ipocrita minaccia sanzioni che non può mantenere, dice il fatto quotidiano. Germania, Austria e Italia non possono farne a meno, ma Biden presse, Draghi manda avanti Berlino e Vienna che come abbiamo visto sono appunto contrarie a questo passo. Il fatto quotidiano in taglio alto, eccolo qui, a firma di Claudio Cerasa, fermare il gas russo all'embargo non è un tabù. Parlano Guerini, Franceschini, Carfagna, Garavaglia, Patuanelli, Orlando e Germini. E poi chiudere i rubinetti di Putin con i vari approfondimenti domani. Eccolo qui l'apertura, vediamola rapidamente. Il messaggio di Biden agli alleati sul criminale di guerra. Putin, il presidente americano, parla dei crimini di guerra commessi a buce, esortando gli europei titubanti a fare di più per colpire la Russia. In questa guerra ha già dimostrato che le sue parole vanno prese alla lettera. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e riprendiamo subito dopo con la lettura dei giornali. Bentornati in studio, proseguiamo con la rassegna stampa di Omnibus. Siamo all'apertura del giornale. Il genocidio non basta, Europa disunita, il gas vale più dei morti. L'Unione Europea non trova la quadra sullo stop all'import, no, dalla Germania e anche l'Italia è prudente. Poi c'è l'analisi delle immagini, bucia tutta la verità sui video, il cane, le torture, la pioggia, i satelliti. Ma che fake, orrore vero. Vediamo anche l'apertura di Libero. Eccolo qui, il Cremlino lucida l'arsenale tra le atomiche di Putin. Una è pronta per l'Italia, dice Libero. Ex dirigente del Ministero degli Esteri russo annuncia in caso di interferenze della Nato un possibile attacco nucleare su obiettivi del patto atlantico, tra cui la base americana di Aviano. Ancora la denazificazione, il piano di Mosca e riducare gli ucraini come Pol Pot. Vediamo ancora l'apertura del manifesto. Arma reale con le immagini shock di bucia, dice il manifesto, che scuotono l'Europa che studia nuove misure contro Mosca. Ma l'arma dello stop alle forniture di gas russo per adesso resta spuntata. Ancora c'è il nuovo fronte che è sulle città costiere. Primi attacchi a Odessa. Mariupol non cade. Vediamo anche il tempo. L'Europa si arrende al gas sulla questione della crisi ucraina. Ancora la verità. Usano l'orrore per portarci a un punto di non ritorno. Biden vuole processare il capo del Cremlino. E poi, sorpresa, l'assegno unico svuota le buste. Paga il taglio delle detrazioni. Colpisce duro chiunque abbia una casa di proprietà. Il paradosso. Favoriti i redditi alti. Diamo un'occhiata anche all'avvenire. Eccolo qui l'orrore svelato delle stragi. E poi ancora Francesco. Andrò a Kiev se conveniente per la pace. Anche l'apertura del mattino è dedicata alla questione dell'Ucraina. Uniti contro Putin. Divisi sul gas. Allora andiamo nelle pagine interne dei quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Eccolo qui è dal racconto. I corpi dei morti, i racconti dei vivi. Russi senza pietà. Il presidente Zelensky. Tre sopravvissuti. Noi ucraini trattati. Peggio degli animali. Nella cittadina degli ultimi massacri. Per strada i cadaveri dei nostri vicini. Le immagini satellitari. Il confronto con i video smentiscono Mosca che parla di una messa in scena. E tra i racconti c'è quello di questa donna di 35 anni. Telefonavano alle famiglie a casa e chiedevano cosa dovessero rubare la moglie di uno. Ha chiesto di prendere i pc di nostra figlia per darlo alla loro. E ci sono le immagini, eccolo qui, satellitari che secondo appunto quanto scrive questa mattina il Corriere della Sera risalgono all'11 di marzo che appunto mettono in evidenza che c'erano già in quella data dei corpi disseminati lungo le strade di Buccia. E dunque appunto il fatto che Mosca respinge le accuse di aver provocato questo massacro è un'altra appunto fake news. Come testimoniano proprio queste immagini satellitari. C'è un'intervista al sindaco di Buccia che dice un safari tra la mia gente ci hanno uccisi per rabbia o per divertimento. E ancora andiamo avanti sempre sul Corriere della sera perché i killer di Buccia sarebbero, ovviamente in condizione d'obbligo, stati individuati. 51-460 la brigata orientale sono loro. I killer di Buccia l'accusa degli attivisti ucraini di inform Napalm. Ecco i responsabili. Rintracciata l'unità russa distanza alla periferia di Kiev prima del ritiro comandata dal tenente colonnello Asambekovich. La conclusione dopo aver incrociato dati online satellitari e dunque sarebbero loro gli autori appunto di questa strage e di questo massacro. Ancora volevo far vedere la testimonianza, quello che accade, i messaggi delle mamme, i bimbi e i nomi scritti sul corpo. Una mamma ucraina ha scritto sulla schiena della figlia un nome, un numero di telefono. Una donna voleva assicurarsi nel caso venisse uccisa che qualcuno potesse risarire l'identità della piccola e sapesse a chi affidarla. Accade anche questo. Un aspetto drammatico, un altro degli aspetti drammatici e terribili di questa guerra. Fake news, dalle bombe sull'ospedale all'ultimo eccidio in campo, la macchina della disinformazione, il ribaltamento delle responsabilità si è già visto più volte come se ci fosse un catalogo da cui scegliere la versione, ma le tesi di Mosca vengono smentite praticamente in diretta e come abbiamo visto anche attraverso le testimonianze e le immagini che sono a disposizione. La Russia non ha inventato niente, ci vollero quasi vent'anni per esalire agli autori dei massacri di Sarajevo. Dunque un copione che evidentemente si ripete. Eccolo qui, ci sono poi le accuse durissime da parte di Biden che dice avevo ragione, è un criminale, Biden vuole Putin alla sbarra, la Russia possono iniziare dal giudicare l'occupazione dell'Iraq, le bombe in Jugoslavia, questa è la risposta di Mosca e il Consiglio di Sicurezza vuole discutere della montatura di bucia, pensate così viene definita. E ancora c'è la questione delle sanzioni perché naturalmente il mondo intero come reazione si muove per un nuovo pacchetto, sanzioni su petrolio e gas ma ci sono Germania e Austria che frenano manca l'unanimità necessaria per varare queste nuove restrizioni, il problema è la dipendenza europea dalle forniture, patto di stabilità Olanda e per la proroga della sospensione appunto del patto di stabilità. E ancora andiamo sulla Repubblica dove si continua naturalmente a parlare di bucia dove sono stati trovati addirittura dei corpi torturati in una cantina e dunque emergono delle nuove atrocità su quanto è accaduto. E ancora il Cremilino vediamolo un attimo dalla Repubblica che sta preparando la fase 2 della guerra in 100.000 a sud-est entro la fine del mese. I russi riorganizzano le truppe dopo il ritiro a nord per la nuova offensiva, la Nato prosegue ad armare gli ucraini per cacciare l'invasore dal paese. Consapevole di non aver raggiunto uno solo degli obiettivi militari dell'invasione, Putin si prepara ad una fase 2 della guerra che vedrà nell'est ucraino il Donbass e nella fascia costiera a sud del paese le due principali direttive. Lo farà come riferiscono fonti di intelligence della Nato contando su una forza d'urto dimezzata rispetto a quella inizialmente impiegata nell'invasione. Non più di 90.000 battle groups per un totale di circa 100.000 uomini che dovrebbero riprendere l'offensiva a sud-est in un periodo compreso tra la terza e la quarta settimana di aprile che è il tempo necessario da quando è cominciata la ritirata strategica a nord e non soltanto per rigenerare le capacità operative dell'armata di invasione ma anche per spostare nel regione del Donbass la forza aviotrasportata al momento riparata in territorio bierorusso. Dunque questo sarebbe diciamo così il piano che sta attuando il Cremlino. La sfida è e resta tutta militare e lo sarà ancora per diverse settimane. Questa appunto l'analisi che troviamo sulla Repubblica. E ancora dicevamo le questioni che riguardano l'Italia e scusate l'Europa che è divisa e tenta il bando al petrolio russo visto che appunto non c'è unanimità sulla questione dello stop al gas. Dall'Austria all'Ungheria molte voci contrarie a questo blocco energetico perché appunto si sottolinea fa più male a noi. E Berlino intanto c'è il caso che mette in evidenza la Repubblica prende il controllo della filiale tedesca di Gazprom. Dopo le sanzioni Mosca voleva riaverla indietro ora è in amministrazione controllata per salvare l'approvvigionamento. Sempre dalla Repubblica ci sono poi le questioni che riguardano l'Italia e la politica italiana. Le ambiguità di Conte imbarazzano il PD dove vuole arrivare fastidio tra i dem per le affermazioni del presidente del Movimento 5 Stelle su guerra e ruolo internazionale dell'Italia maggiore sintonia con Di Maio e riparte il dibattito sul proporzionale. C'è un'intervista al coordinatore di Forza Italia oggi sulla Repubblica Tajani che dice Mosca deve punire i responsabili dei massacri, no ai toni anti Stati Uniti dal capo del Movimento 5 Stelle. Putin, Berlusconi ha fatto molte telefonate ma si confronta dice sempre con Draghi. Dice in questa intervista dobbiamo seguire con maggiore forza una doppia strada da un lato la diplomazia dall'altro il sostegno all'Ucraina attraverso gli aiuti militari e le sanzioni alla Russia. Bisogna spingere Putin e Zelensky a sedersi allo stesso tavolo senza che tra loro ci sia un vinto. Fare in modo che la pace sia un'esigenza di due paesi cui non conviene più la belligeranza. questa appunto l'idea del coordinatore di Forza Italia Tajani. Ancora andiamo un attimo sulla sulla stampa dove appunto si parla anche qui della questione dello stop al gas russo. Per l'energia un piano europeo. Cingolani e Letta insistono basta approvvigionamenti da Mosca. E ancora sempre dalla stampa eccola qui c'è la questione che riguarda il DEF di guerra perché peggiorano le stime del documento di economia e finanza. Scende il PIL sale la spesa. Ora il governo prepara un nuovo decreto per tagliare i costi dell'energia. Naturalmente questione in primo piano per quanto riguarda il DEF con Palazzo Chigi. Ci racconta la stampa che accelera sull'uso dei fondi europei per le rinnovabili e il Partito Democratico che chiederà entro aprile una manovra dai 15 ai 20 miliardi. È tutto per la rassegna stampa di questa mattina e lasciamo spazio a Paolo Sottocorona per il meteo. Paolo è con noi in studio. Buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno, grazie. Allora, molte meno nuvole rispetto a ieri. Ieri avevamo visto molte nuvole ma piogge in realtà molto poche. Oggi ci sono anche poche nuvole quindi la previsione per la giornata di oggi è difficile che sia diversa da questa. Vedete il grigio di qualche nuvola che si può affacciare qui e là, se no una prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso. Però per domani è confermato questo cambiamento. Nella fascia proprio centrale, vedete, da Corsica e Sardegna, il Tirreno e tutte le regioni centrali con piogge non solo deboli ma anche localmente moderate o forse anche qualcosa di più sull'Appennino. Questa è proprio una zona piuttosto, diciamo, il maltempo è concentrato proprio nella zona del centro perché poi al nord si si affaccia a qualche debole pioggia qui e là ma insomma è una situazione molto più tranquilla. Lo stesso vale per il sud che soltanto nella parte fra Molise, Campania, Puglia ma solo nella zona garganica vede la possibilità di qualche debole pioggia. Questo maltempo nella giornata di giovedì si attenua molto, già molto velocemente, interessa ancora le zone del centro, questa volta un po' le zone del sud, soprattutto sul versante tirrenico, ma sono piogge deboli, localmente moderate, ma insomma un po' di pioggia in qualche modo riesce ad arrivare. Le minime di questa mattina, ieri le temperature massime sono riuscite a salire un poco, le minime un po' meno perché con il cielo che è diventato sereno, come sapete, le minime rimangono piuttosto basse, al sud forse appena un pochino più alte. Per quello che riguarda lo stato dei mari, anche oggi è la fascia più meridionale, i mari più meridionali che sono almeno molto mossi al largo del canale di Sardegna, anche agitati, il colore rosso. Via via che si va verso il centro e il nord, la situazione rimane piuttosto, rimane, diventa piuttosto tranquilla, quindi mari da mossi a poco mossi e in qualche caso anche di meno, meno di poco mosso, c'è quasi calmo, tanto per avere un'idea. Se volete ci vediamo intorno alle 7.55, adesso pubblicità, poi la prima edizione del nostro telegiornale con Emanuele Lagarulli, a più tardi.